Un saluto a tutti gli amici di Infodrons, io sono Shadi e oggi vediamo insieme la selezione delle migliori cuffie bluetooth economiche 2021. Una selezione che comprende tutti i migliori modelli presenti sul mercato scelti da noi di Infodrons con un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Prima di iniziare come sempre iscrivetevi al canale se ne lo avete ancora fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con i prossimi video che usciranno sul canale. Iniziamo quindi la selezione con un'alternativa economica delle Airpods di Apple, le Oki e PT21, che grazie al loro design richiamano sicuramente quello della cuffia della mela morsicata. Si tratta di cuffie in-ear che dispongono di classici gommini intercambiabili che permettono un inserimento ottimale e un buon isolamento. Dato il loro peso ridotto e le dimensioni contenute risultano comode e pratiche da indossare. Questo modello è dotato di driver da 0,24 pollici in grado di offrire bassi molto validi. Troviamo una batteria da 400 mAh che consente un utilizzo continuativo fino a 5 ore. Per quanto riguarda le chiamate risultano chiare e pulite, merito del chip MEMS e del microfono integrato. Sono ovviamente dotate di Bluetooth 5.0 e funzionano sia su Android che iOS. Tra le migliori cuffie Bluetooth economiche 2021 ci sono sicuramente anche quelle di Homescam. Il modello che abbiamo selezionato è davvero notevole e a nostro giudizio più interessante di tante altre concorrenti più blasonate. Stiamo parlando di cuffie comode, semplici da utilizzare e con specifiche tecniche di alto livello per la fascia di prezzo a cui sono vendute. Con una ricarica completa possono essere utilizzate per circa 3 ore continue, ma la ricarica risulta essere comunque molto veloce. Sono dotate di Bluetooth 5.0 e la qualità del suono è molto buona. Nella confezione sono presenti un cavo di ricarica e gommini di varie dimensioni per far sì che le cuffie si adattino meglio ad ogni tipo di orecchio. Un altro modello super low cost è quello prodotto da Holy Eye, che presenta delle cuffie Bluetooth che offrono bassi ricchi e dinamici, sempre tenendo conto del prezzo a cui sono vendute. Garantiscono fino a 6 ore di riproduzione con una carica della batteria nella media. Adottano anche loro la tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione più stabile e minori consumi energetici e posseggono una certificazione IPX5 per la resistenza all'acqua e al sudore. Sono anche loro molto leggere e comode e all'interno della confezione sono presenti diversi gommini per le varie misure. Passiamo ora ad un modello di cuffie Bluetooth con paviglioni con isolamento acustico e comandi ai lati. Stiamo parlando di Felix SHB3075, sicuramente una delle migliori cuffie in questa fascia di prezzo. Sono cuffie classiche rivestite di cuscinetti imbottiti in grado di assicurare un ottimo isolamento dei rumori esterni e dispongono di driver da 32 mm. La qualità di bassi è molto buona se paragonata a cuffie di fasce più alte. A livello di autonomia possono contare invece su 12 ore circa di riproduzione e una ricarica della batteria abbastanza veloce. Hanno un microfono, comandi sul padiglione e la connessione Bluetooth risulta essere davvero buona. Altre cuffie super interessanti che entrano nella selezione delle migliori cuffie Bluetooth economiche 2021 sono le Sony MDR-ZX330. Sono cuffie che dispongono di padiglioni pieghevoli, quindi facilmente trasportabili, funzione FNC e una durata della batteria dichiarata di circa 30 euro di autonomia. Ottimi anche i driver da 30 mm che portano le cuffie ad un peso di circa 150 grammi e i comodi controlli sul padiglione in cui è presente anche il microfono. Un modello quindi davvero interessante e sicuramente di qualità. E con Sony chiudiamo la selezione delle migliori cuffie Bluetooth economiche 2021 scelti da Nili Infodrome se disponibili sul mercato. Vi ricordo come sempre che sotto in descrizione troverete l'articolo completo sul nostro sito e tutti i link per acquistare i prodotti nei vari store. Sempre in descrizione troverete il nostro gruppo dedicato a offerte e coupon su Telegram e i nostri gruppi su Facebook dedicati al mondo tech. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un mi piace se il video vi è stato utile. Con questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.